Buongiorno, in coerenza con la mia idea più volte espressa che politica e arte sono spesso speculari vorrei iniziare il discorso citando un articolo o meglio riferendomi alla polemica che viene fatta oggi sulla politica. In questa vittoria delle 5 Stelle e della Lega si è scatenata tutta una serie di valutazioni e considerazioni sul degrado della politica. Ora tutti gli intellettuali che sui giornali nazionali, specialmente quelli di sinistra, affrontano questa tematica dicono delle cose che sostanzialmente possono anche essere considerate giuste ma c'è un punto che secondo me viene trascurato, ignorato del tutto, cioè la radice. Quando per esempio si accusa gli italiani di essere islamofibi e antisemiti, si dimentica, si dice c'è stata questa egemonia della sinistra che è durata decenni e nelle scuole tuttora sono professori, docenti eccetera, sono in grandissima parte di sinistra. Quindi questi islamofobi, questi antisemiti, questi bullisti, bullismi eccetera, da dove vengono? Da chi sono stati educati? Ecco questo è il tema che non viene affrontato. Sembra che ci sia una sorta di parallelismo, cioè c'è una parte i buoni dagli altri i cattivi e si dimentica che i cattivi sono quelli che hanno educato i buoni, cioè pardon, che i buoni hanno educato i cattivi e quindi si crea una situazione paradossale che sostanzialmente per quanto possa essere corretto il ragionamento alla fine risulta sbagliato proprio perché esprime, salta la base, cioè non spiega la ragione in sostanza di come si è formata questa società attuale, che scuola frequentata, qui sono stati i docenti, i libri che ha letto, la situazione che ha vissuto. Ecco questo è quanto. Ora, perché il parallelismo? Perché è lo stesso tipo di devianza concettuale, secondo me avviene nell'arte. Leggo un articolo sull'incerto culturale di un quotidiano in cui già il titolo è di per sé un qualcosa che vuole essere provocatorio, in realtà è semplicemente primo di senso, cioè il museo del domani come software. Naturalmente qui andrebbe poi chiarito tutto quanto. Ecco, purtroppo non posso leggere quello che ho scritto, quindi devo andare a braccio totalmente, volevo fare delle citazioni che non riesco a leggere. Quello che volevo dire, si parla in questo articolo di un museo, di un museum in cui c'è Gioni, ex direttore della Biennale, direttore. E questo museo nasce sulla Boveri. Ora, quando io ero a New York, andavo a visitare gli studi degli artisti e per esempio Roger Welch, che oggi è un artista della Guggenheim, quindi ha avuto successo, aveva lo studio sulla Boveri. La Boveri era la strada nella quale erano ammassati un numero molto alto di homeless, di senza casa, noi diremmo barboni, quelli che dormono per strada e chiedono delle mosse. Ecco adesso questa strada è diventata la sede del New Museum. Ecco, New Museum che nasce da un fallimento, nasce dal fallimento di una certa Toker che ha realizzato una mostra al Winn nel museo. La mostra è stata un fallimento totale e quindi questa direttrice è stata cacciata. Questa direttrice evidentemente apparteneva a un certo ceto, aveva una certa disponibilità per cui, per rimanere nel campo dell'arte e far valere se stessa, ha creato questo museo, New Museum, il che non è una cosa facilissima da fare, però evidentemente l'ha fatta, aveva i mezzi per farlo. Ora, nel corso di questo articolo si parla dell'arte come metafora e qui è un pleonasmo totale. L'arte è sempre stata metafora, perché se no è un manifesto pubblicitario, un racconto banale. L'arte è necessariamente metafora. Il problema è di vedere a cosa si riferisce la metafora. Ora, per esempio, una delle mostre che è stata realizzata in questo museo che ha un'impronta ovviamente progressista, ovviamente progressista, è stata la mostra di Carlo Dama, una torinese che io conosco perché operava a Torino negli anni in cui io operavo lo studio 46. Ed è una persona, non è un'artista questa donna, è un'artista, una donna assolutamente come dire, vorrei dire satanata di sesso, ma magari è un po' troppo forte, ma il senso è quello. Una persona che aveva continuamente desideri che non riusciva tanto a realizzare perché era piuttosto brutta e comunque abitava in una via di Torino, via Napione e aveva lo studio e faceva delle cose francamente che non aveva nulla a quei tempi a che vedere con l'arte. Perché non aveva cultura, non aveva nessuna capacità tecnica nel senso di realizzare qualcosa, era una persona che andava avanti con una propria fantasia, perché la fantasia è sempre una dote positiva e creava delle cose francamente. Chi la conosce lo sa, chi non la conosce può andarla a cercare, credo che su Google troverà tutto. Ebbene, il New Museo organizza quella mostra di Carlo Nama, organizza prevalentemente mostre di africani, di donne, eccetera, tutte improntate al progressismo. Per rompere i tabù e rompere le norme. Ora a me, onestamente, mi si passi l'espressione non elegante, questa storia di rompere i tabù ma ha rotto le palle, veramente. Perché ormai di tabù da rompere non ce ne sono più. Ecco, diciamocelo chiaro. Diciamocelo chiaro. Noi nel campo dell'arte non abbiamo più nulla da violare, non abbiamo più nessun tipo di legge, di norma da infrangere. Che l'arte è diventata un qualcosa. Ecco, e qui entra in gioco Johnny, no? Il quale, per carità, io non ho nulla contro di lui, ha realizzato una biennale accettabile rispetto all'ultima dello scorso anno, sicuramente era migliore. Ma quello che, una delle tante cose, sarà un parlare prodomo cicero, ma una delle tante cose che non riesco bene a capire, quest'ansia di nuovo, quest'ansia dei giovani. Ora, il discorso dei giovani è un discorso come quello che parlevamo prima di politica, che non si interessa delle radici del disagio sociale. Quando si parla di giovani non si parla alla radice della loro conoscenza. Un giovane, se è giovane, chiaramente non ha esperienza ed ha una cultura limitata. necessariamente, necessariamente. Io ho quasi 80 anni, sono 60 anni che leggo e studio libri e ho una cultura molto modesta. Eppure ho letto centinaia, migliaia di libri, ho una biblioteca di 10.000 volumi e continuo a leggere, a studiare l'attualità. E non sono ancora in grado di realizzare molte cose, di capire molte cose. Può darsi che il mio livello intellettuale sia basso, è possibile. Però, insomma, in qualche modo qualcosa dovrei aver assimilato. E quindi, quando si parla di... che tipo di vantaggio? L'improvvisazione, la provocazione. Ecco, questo è quello che conta. Ma può l'arte basarsi soltanto sulla provocazione? Può l'arte basarsi solo sulla sua fantasia? Cioè, l'arte non dovrebbe avere un contenuto oltre a essere metafora. Questo è scontato. L'arte è sempre metafora. Se no, non sarebbe arte. L'essenza dell'arte è la metafora. E quindi, oltre a essere metafora, dovrà avere un contenuto gnoseologico, dovrà avere una qualche possibilità di comunicazione per arricchire l'umanità delle persone, non provocarla. Perché poi, oltretutto, si finge che questa provocazione vada nella direzione della massa. Aiuti la massa presente. Non è vero. Questa è l'ennesima menzogna. È l'ennesimo inganno. Perché le persone normali, che hanno dei problemi normali, sempre più grandi, non vanno certo al museo per imparare a vivere. Quindi il museo è comunque una parte che interessa, è un luogo, è la sede in cui vengono presentate determinate cose che interessano una minoranza di persone che ha tempo e disponibilità per seguirlo. Questo è sbagliato. Bisognerebbe ampliare la base, sicuramente. Però allo stato dei fatti, nonostante tutto, è ancora così. Quindi quando si parla dell'arte, e oltretutto, l'aspetto negativo per come la vedo io, è vero che è una minoranza tutto sommato di persone che frequentano il museo con una certa assiduità, no? Però, però, siccome questa minoranza è una minoranza di industriali, imprenditori, intellettuali, direttori di giornali, eccetera, ecco, se viene incoraggiato il loro disfattismo intellettuale, questa tendenza a volere a tutti i costi, questo progresso, questa novità, quest'ansia, ecco, di nuovo, cioè non è che di per sé sia qualcosa di positivo, perché bisogna andare alla radice di quello che poi in realtà viene realizzato. Quindi quando noi vediamo che il museo viene strumentalizzato in due modi. Da un lato, da un punto di vista ideologico, quindi grande spazio per esempio al femminismo, alle provocazioni del femminismo, alle forme che un tempo sarebbero sicuramente state considerate volgari, adesso ormai i tempi sono quelli che sono, quindi va bene così. Quindi questo profluvio di nudi, di atti sessuali, di cose di questo genere. E dall'altro, la realtà è che ormai sono i manager dell'arte che determinano il corso, non gli artisti. Gli artisti sono soggetti alla volontà, alla programmazione di queste persone. Molto più di un tempo, molto più di un tempo. Perché un tempo, quando io mi sono accostato al mondo dell'arte, una cinquantina d'anni fa, ecco, c'erano ancora una pluralità di piccole gallerie, ognuna delle quali muoveva una parte di mondo dell'arte, presentava degli artisti, cercava degli spazi, eccetera. Adesso tutto questo non esiste più, le gallerie, le piccole gallerie vanno scomparendo, vanno scomparendo. Ormai resistono soltanto le grandi istituzioni, le fondazioni che hanno alle spalle dei capitali enormi e soprattutto usano l'arte per autopromozione, per autopubblicizzare i propri prodotti. Tanto è vero che, per esempio in Italia, ma non solo, la maggior parte delle fondazioni sono state create da figlie industriali, sono state create da case di moda. La Venezia è tutto Witton, il padrone di Witton ha tutti gli spazi possibili, poi c'è Prada, poi c'è la maggior parte, sono di case di moda. Quindi oltretutto c'è anche questo accostamento che secondo me è discutibile tra moda e arte, che viene accostato, addirittura nei musei vengono presentati abiti, quindi si è già passato il segno, come fossero opere d'arte. Io, ripeto, non sto emettendo giudizi, non è il mio compito, esprimo soltanto delle opinioni e delle perplessità. Ecco, quindi in buona sostanza si finge di creare delle situazioni per così dire democratiche, perché dire verso il popolo è pericoloso, allora si cade nel populismo, però c'è questa distinzione di lana caprina, democratiche ma non populiste. E quindi la gestione di queste cose è delle solide persone, cioè le persone che hanno disponibilità economica, che hanno entrature sociali. Tanto è vero che un museo che vuole essere contro, che vuole essere d'avanguardia, che vuole essere di rottura, alla fine conquista la prima pagina del New York Times, che è il massima espressione dello establishment americano e quindi condiziona un po' tutto. Quindi c'è questa enorme contraddizione di questa opere di rottura che però vanno sui maggiori giornali del mondo, come questo articolo di cui io facevo riferimento, è su un giornale assolutamente di grande tiratura, uno dei maggiori in Italia. E quindi allora c'è questa ulteriore contraddizione. Quando iniziavano gli artisti, ancora a fine ottocento, inizio novecento, c'era effettivamente una presa di posizione che gli artisti e i galleristi, i piccoli galleristi, pagavano sulla loro pelle. Lì sì che c'era una vera creatività, un vero atto di rottura non dichiarato, non pubblicizzato, ma nei fatti. Si realizzava nei fatti concretamente. Oggi tutto questo non è più così. Oggi tutto questo. Basta entrare nel circo magico e quindi lì a un certo punto si continua a parlare di rottura, di rompere le norme, eccetera, 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 ma in realtà si gioca all'interno di una classe mondana, di un'elite di personaggi facoltosi, eccetera, magari ignorantissimi, i famosi squiglionari, però che hanno la possibilità di muovere il denaro che consentono la creazione e il mantenimento di musei, che vogliono tutti essere nuovi. Infatti questo museo di cui si parla si chiama New Museo, il Nuovo Museo. È tutto nuovo. Cioè questa coazione verso il nuovo, verso il progresso, è più che altro una finzione. Perché poi nella realtà o il nuovo è semplicemente un orientamento che ha espulso la cultura nel procedimento artistico e c'è soltanto queste forme di provocazione di carattere ideologico. Oppure il museo non dovrebbe essere il nuovo, non è di per sé una caratteristica positiva, perché la caratteristica positiva è nella qualità delle opere, dovrebbe esprimere attraverso il valore delle opere che presenta. Gli artisti dovrebbero valere per il discorso che riescono a fare, senza ansie e coazioni verso il nuovo, verso il progresso, verso la rottura. L'arte dovrebbe giocare, a mio avviso, all'interno del proprio spazio. Nel proprio spazio può creare delle opere innovative. Ma certo è molto più difficile creare delle opere innovative rispettando le regole che mandare e rovesciare, come si dice, il tavolo e quindi a un certo punto diventa tutto innovativo perché l'arte non c'entra più nulla. Sono soltanto più atti, gesti e oggetti provocatori, tipo calorrama, che con l'arte non ha nulla a che vedere. A prescindere che sia in un museo io resto di questa idea. Cioè buona parte dell'avanguardia non vale nulla. Ecco, so che dico una cosa accettata da pochi, visto che molte opere dell'avanguardia vengono battute all'asta a prezzi stratosferici e questa è l'unica forma vera di riconoscimento nella nostra società. Ma allora non parliamo di rottura, non parliamo di nuovo, non parliamo. Parliamo di una abilità nel creare situazioni di mercato che sostengono determinate opere e che siccome la capacità di fare arte è sempre minore, perché nelle accademie non insegnano quando si parlava di radici, per esempio per quanto concerne l'arte, cioè nelle accademie non viene più insegnato nulla, perché i grandi maestri si fermano ai soliti delle avambardie storiche dell'inizio secolo. E quindi tutto il resto, non dico che sia dimenticato, ma diciamo che non è preso in considerazione, non costituisce uno stimolo per la creazione di nuove opere. Quindi è sostanziale, ma la fede è una forma di ignoranza sottile, la famosa dotta ignoranza che gioca tra socialità ed economia, tra socialità e disponibilità economica, tra casa d'aste e provocazione, che ovviamente viene accolta perché il livello medio della classe dirigente è quello che è e che sappiamo, perché se così non fosse non ci troveremmo in questo mondo così confuso e disastrato. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono e ognuno tragga le proprie conclusioni. Buongiorno.